Un saluto a tutto l'Honor Club Italia. Nel video di oggi andremo ad unboxare un dispositivo di Honor che è stato presentato a IFA di Berlino a settembre. Sto parlando di Honor Pad 8, il primo tablet che Honor riesce a portare nei mercati globali e in particolar modo anche in Italia. E ci è riuscita con un dispositivo grande, bello, dal design semplice ma molto funzionale. Il contenuto della scatola è molto minimal, oltre a Honor Pad 8 che è riposto in una sua bustina con indicate addirittura il lato del tasto di accensione del volume, quindi sempre importante l'occhio e il dettaglio di Honor. Abbiamo un sacco di scompartimenti ma solo due sono funzionali ai nostri scopi. Il primo è quello dove troviamo il trasformatore per la ricarica e l'altro è una scatolina con all'interno il cavo USB con l'uscita di tipo C, tradizionale. Vediamo un po' come si presenta questo Honor Pad 8. Ha uno chassis totalmente in metallo con un ampio schermo frontale, lato inferiore pulito. I due lati laterali hanno dei doppi speaker, lato destro con presa USB di tipo C, lato sinistro gli altri due doppi speaker, la cornice superiore presenta un microfono, il tasto di accensione e il bilanciere del volume. frontalmente il display è quasi un full view display, solamente con il piccolo hole della camera nella parte centrale superiore. Vediamo un po' di specifiche tecniche di questo Honor Pad 8. Per prima cosa salta alla vista l'Honor full view display da 2K da 12 pollici, il telaio monoscocca, come dicevo frontalmente ha una singola webcam fondamentalmente per le videochiamate da 5 megapixel e sul retro ha una camera principale, una lente singola con un sensore da 5 megapixel. Lateralmente abbiamo detto che ci sono quattro doppi speaker, due a sinistra e due a destra, con la certificazione DTS-X Ultra per effetti audio Eastern intelligenti, cioè c'è un'intelligenza artificiale che va a modulare l'intensità e la qualità del suono in base al contenuto multimediale che stiamo visionando. Infatti entrando nel menu delle impostazioni dell'audio, troviamo qualità del suono ed effetti, attiviamo gli effetti DTS-X Ultra e possiamo scegliere tra uno stile di audio automatico, quindi è la I che riconosce lo scenario che stiamo visualizzando sul nostro tablet, qualità standard, voce per ad esempio le videochiamate, musica, se stiamo ascoltando i streaming della musica, cinema per i film, gioco per appunto contenuti di gioco che sto già un pochino provando in questi giorni. Facciamo un esempio di musica così al volo. Esempio di gioco, audio surround molto immersivo. e poi io faccio un po' vena e la finiamo qua. Ovviamente la qualità audio è accompagnata dalla qualità del display, ma anche da un buon motore che muove tutto questo Honor Pad 8. Infatti abbiamo un Qualcomm Snapdragon 680, processore di media gamma che viene equipaggiato anche in altri dispositivi di smartphone Honor, come ad esempio il Magic 4 Lite 4G. Vediamo che la RAM, in questo caso è un 4 più 2 di RAM Turbo, esiste anche la versione 6 più 2, 128 GB di spazio di archiviazione, dopo la prima accensione ci saranno un paio di aggiornamenti da fare. Abbiamo le patch di sicurezza di Android di agosto e di Google Play di ottobre. Monta l'Android 12 con la Magic UI 6.1. Honor è sempre molto attenta alla qualità dei propri dispositivi, in particolar modo anche del display. Abbiamo due funzioni che vanno a garantire la nostra salute, in particolar modo della vista, dato che con questi strumenti noi ci passeremo diverse ore della giornata. Abbiamo il tema scuro, la dark mode, ma anche la modalità e-book che permette una più semplice lettura di documenti o libri. Inoltre Honor Pad 8 è certificato low blue light tube Rayland, quindi con una bassa emissione delle lunghezze d'onda del blu. Una delle funzioni software presenti su Honor Pad 8, ereditate appunto dalla Magic UI 6.1, è la collaborazione multifinestra. Ad esempio io posso andare a leggere un documento e a sfogliare determinate altre app. Posso vedermi un video su YouTube e leggere un documento, ad esempio. Inoltre si può avere una effettiva collaborazione multidispositivo, come ad esempio con Honor 70 o il Magic Book 14. Una prova che farò successivamente e gli dedicherò un post sull'Honor Club. Abbiamo quindi un processore di buona fascia, abbiamo un grande display molto luminoso che tutto ciò ha bisogno di una batteria capiente. Infatti abbiamo 7250 mAh che permettono, secondo i dati, 14 ore di ascolto di audiolibri o 14 ore di video offline o 10 ore di video online. La batteria viene ricaricata mediante una supercharge rapida, ma non rapidissima, da 22,5 W. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, un like e commento sull'Honor Club Italia, l'Honor Global Club su YouTube e per qualsiasi domanda, dubbio o perplessità sono a disposizione. Ciao a tutti e alla prossima!